Sono tornati a manifestare anche a Frosinone i ragazzi del Friday for Future, il movimento giovanile in difesa dell'ambiente, nato in tutto il mondo dopo la protesta avviata dall'attivista Greta Thunberg contro il cambiamento climatico. In tanti si sono radunati al Parco Matusa con striscioni, cartelli colorati e slogan in difesa della natura e della salute del pianeta. Testimonianze, arte e musica sono stati al centro dell'evento. Siamo la generazione che per prima subirà le conseguenze del cambiamento climatico e per questo la prima a dover lottare perché questo sistema cambi radicalmente. È stato l'appello degli studenti. Tra i giovani anche il Vescovo della Diocesi di Frosinone Veroli Ferentino, Monsignor Ambrogio Spreafico, sempre attento alle tematiche ambientali, il prefetto Ignazio Portelli, Don Paolo Cristiano della Comunità Sant'Egidio e paroco della Cattedrale Santissima Annunziata San Benedetto di Frosinone. Osservato anche un minuto di silenzio per le due giovani vittime del multipiano. Mi sembra che in questo giorno, inventato da Greta, siano i giovani che sensibilizzano noi, che non è male, diciamo, perché tante volte noi giovani li spritichiamo, li disprezziamo, pensiamo che tanto non conta niente quello che fanno, venissero a fare loro politica. In realtà fanno più che politica, perché oggi è un messaggio al mondo, è un messaggio alla nostra città, è un messaggio per questa terra che talvolta è stata ingiustamente devastata come la Valle del Sacco. Io credo che quello che fanno oggi è una grande cosa. Qui con i Giovani per la Pace a Frosinone noi ci teniamo a voler vivere in un ambiente più pulito. L'ecologia inizia da tanti punti di vista. Inizia dal rispetto dell'ambiente, inizia dal piantare degli alberi, come abbiamo fatto con il Vescovo. inizia anche dal accogliere quanti sono in difficoltà. Penso ai tanti bambini poveri e agli anziani di questa città che devono respirare un clima meno inquinato dall'individualismo. Io ci credo fortemente e sono contento che tanti giovani oggi abbiano raccolto questo appello. Sicuramente la situazione di Frosinone non è delle più rose per quanto riguarda il livello ambientale. Coinvolgere, grazie alla consulta provinciale degli studenti e alla comunità di Sant'Egidio, un gran numero di ragazzi della provincia. Sicuramente è stata una vittoria quella che abbiamo portato avanti oggi. Un messaggio di lotta, un messaggio di inclusione, un messaggio di non indifferenza. Noi tutti, a partire dalle scuole fino poi ai partiti politici, dobbiamo fare una lotta senza quartiere a quelle che sono tematiche, quelle che sono le modalità dell'inquinamento. Oggi siamo qui come giovani per dire che il nostro mondo ha bisogno di una nuova speranza e siamo qui per dire che noi siamo pronti ad impegnarci quotidianamente e costantemente per costruire un modello di sviluppo alternativo, più solidale e più verde.